allora ci riprovo perché ero partito alle 20 e 30 in punto ma mi diceva connessione brutta brutta connessione internet e a questo punto speriamo che funzioni meglio non garantisco perché le linee sono sovraccariche in questo momento quindi speriamo in bene non dipende da me non dipende da me allora buonasera a tutti buonasera omeopati buonasera antivaccinisti come state come state ma dove siete spariti dove sono dove sono gli omeopati dove sono gli antivax dove sono finiti ma guarda un po come buffo va bene bando alle ciancue anche stasera filastrocche in cielo in terra e favole al telefono di gianni rodari allora oggi pomeriggio mio figlio mi ha detto quello del palazzo del gelato leggiamo subito quella del palazzo di gelato di gianni rodari che gli piaceva tanto il palazzo il palazzo di gelato di gianni rodari da favole al telefono una volta a bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla piazza maggiore e i bambini venivano di lontano a dargli una leccatina il tetto era di panna montata il fumo dei comignoli di zucchero filato i comignoli di frutta candita tutto il resto era di gelato le porte di gelato i muri di gelato i mobili di gelato un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti e i piatti erano di gelato al cioccolato il più buono una guardia del comune a un certo punto si accorse che una finestra si scioglieva i vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa presto gridò la guardia più ancora e giù tutti a leccare più presto per non lasciare andare perduta una sola goccia di quel capolavoro una poltrona implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la forza poltrona per una povera vecchia chi me la porta coi braccioli se è possibile un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta tutta beata cominciò a leccarla proprio dai braccioli fu un gran giorno quello e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia ancora adesso quando i bambini chiedono un altro gelato i genitori sospirano eh già per te ce ne vorrebbe un palazzo intero come quello di bologna e questa è fatta poi ce n'era un'altra che mi ha detto papà leggi quella papà leggi quella il remida il remida sempre di gianni rodari sempre di favole al telefono il remida era un grande spendacione tutte le sere dava feste e balli finché si trovò senza un centesimo andò dal mago apollo gli raccontò i suoi guai e apollo gli fece questo incantesimo tutto quello che le tue mani toccano deve diventare oro il remida fece un salto per la contentezza e tornò di corsa alla sua automobile ma non fece in tempo a toccare la maniglia della portiera che subito la macchina diventò tutta d'oro ruote d'oro vetri d'oro motore d'oro era diventata d'oro anche la benzina così la macchina non camminava più e bisogna far venire un carro coi buoi per trasportarla appena a casa il remida andava in giro per le stanze a toccare più cose che poteva tavoli armadi sedie e tutto diventava d'oro a un certo punto ebbe sete si fece portare un bicchiere d'acqua ma il bicchiere diventò d'oro l'acqua pure e se volle bere dovette lasciarsi imboccare dal suo servo col cucchiaio venne l'ora di andare a tavola toccava la forchetta e diventava d'oro e tutti gli invitati battevano le mani e dicevano maestà toccatemi i bottoni della giacca toccatemi questo ombrello il remida li faceva contenti ma quando prese il pane per mangiare anche quello diventò d'oro e se volle cavarsi l'appetito dovette farsi imboccare dalla regina gli invitati si nascondevano sotto il tavolo a ridere e il remida si arrabbiò ne acchiappò uno e gli fece diventare d'oro il naso così non poteva più soffiarselo venne l'ora di andare a dormire ma il remida senza volerlo toccò il cuscino toccò le lenzuola e il materasso diventarono d'oro massiccio ed erano troppo duri per dormirci gli toccò di passare la notte seduto su una poltrona con le braccia alzate per non toccare niente e la mattina dopo era stacco morto corse subito dal mago apollo per farsi disfare l'incantesimo e apollo lo accontentò va bene gli disse ma sta bene attento perché per far passare l'incantesimo ci vogliono sette ore e sette minuti giusti e in questo tempo tutto quello che toccherai diventerà cacca di mucca il remida se ne andò tutto consolato e stava bene attento all'orologio per non toccare niente prima che fossero passati sette ore e sette minuti il pianeta della verità preso a caso è questa va bene c'è un po di corsivo speriamo di leggerlo giusto il pianeta della verità la pagina seguente è copiata da un libro di storia in uso nelle scuole del pianeta moon e parla di un grande scienziato di nome brun nota lassù tutte le parole finiscono in un per esempio non si dice la luna ma lum lum la polenta si dice lum pulentum eccetera ecco qua brun inventore vissuto duemila anni fa attualmente conservato in un frigorifero dal quale si risveglierà tra 49 mila secoli per ricominciare a vivere era ancora un bambino in fasce quando inventò una macchina per fare gli arcobaleni che funzionava ad acqua e sapone ma invece che semplici bolle ne uscivano arcobaleni di tutte le misure che si potevano distendere da un capo all'altro del cielo e servivano a molti usi anche per appendervi il bucato ad asciugare all'asilo infantile giocando con due bastoncelli inventò un trapano per fare i buchi nell'acqua l'invenzione fu molto apprezzata dai pescatori che l'usavano come passatempo quando il pesce non abboccava in prima elementare inventò una macchina per fare il solletico alle pere una pentola per friggere il ghiaccio una bilancia per pesare le nuvole un telefono per parlare con i sassi il martello musicale che mentre piantava i chiodi suonava bellissime sinfonie eccetera sarebbe troppo lungo ricordare tutte le sue invenzioni citiamo solo la più famosa cioè la macchina per dire le bugie che funzionava a gettoni per ogni gettone si potevano ascoltare 14.000 bugie la macchina conteneva tutte le bugie del mondo quelle che erano già state dette quelle che la gente stava pensando in quel momento e tutte le altre che si sarebbero potute inventare in seguito la macchina ebbe recitato tutte le bugie possibili la gente fu costretta a dire sempre la verità per questo il pianeta moon è detto anche il pianeta della verità passiamo a una fila strocca o due questa gli eschimesi gli eschimesi queste le prendiamo chiaramente da filastrocche in cielo in terra filastrocche in cielo in terra sempre di gianni rodari strana gente gli eschimesi sono di ghiaccio i loro paesi di ghiaccio piazze strade e stradette sono di ghiaccio le casette il soffitto e il pavimento sono di ghiaccio non di cemento perfino il letto è di buon ghiaccio tagliato e squadrato col coltellaccio ed è di ghiaccio almeno pare anche la pietra del focolare di non ghiaccio c'è una cosa la più segreta la più preziosa il cuore degli uomini che basta da solo a scaldare perfino il polo ancora una ancora una vai io vorrei io vorrei io vorrei che nella luna ci si andasse in bicicletta per vedere se anche lassù chi va piano non va in fretta io vorrei che nella luna ci si andasse in micromotore per vedere se anche lassù chi sta zitto non fa rumore io vorrei che nella luna ci si andasse in accelerato per vedere se anche lì chi non mangia la domenica ha fame il lunedì e poi l'ultima 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 stelle senza nome e poi basta poi buonanotte stelle senza nome i nomi delle stelle sono belli sirio andromeda l'orsa i due gemelli chi mai potrebbe dirli tutti in fila sono più di cento volte cento mila e in fondo al cielo non so dove e come c'è un milione di stelle senza nome stelle comuni nessuno le cura ma per loro la notte è meno scura buonanotte a tutti buonanotte ai bambini buona serata buon sesto giorno finito quasi di quarantena e buon settimo giorno domani di quarantena ciao ciao buonanotte a tutti e buona serata